Buongiorno a tutti amici, oggi sono qui per parlarvi dell'Achilea millefoglie o Achilea millefolium. Questa è una pianta erbacea perenne che si adatta a qualsiasi tipo di terreno e di clima, dal mare alla montagna, e resiste molto bene sia al freddo che al caldo. È adatta sia alla coltivazione in vaso che in piena terra, ed è molto bella sia nelle bordure che per abbellire terrazzi, per i giardini rocciosi o nelle aiuole, perché fa queste abbondanti fioriture e a seconda della varietà che si sceglie, ci sono diversi colori, dal bianco al rosa, al rosso all'arancione, al fucsia, predilice posizioni soleggiate e fiorisce dall'estate fino all'autunno. Non è solo bella questa pianta, ma è molto utile da inserire nell'orto perché è una pianta millifera, quindi attira molti insetti utili e impollinatori, ha molte proprietà che adesso non vi sto a descrivere perché ancora non la conosco molto bene, ma so che ha anche molte controindicazioni, quindi se volete farne uso di questa pianta, in questo caso dei fiori, perché sono commestibili solo i fiori, andate in erboristeria e vi fate consigliare da loro. È una pianta molto semplice da riprodurre perché si riproduce sia per seme che per divisione dei cespi. La divisione dei cespi è molto più veloce perché appunto avete già la piantina già pronta.